ragazzi una buona giornata da corrido Renato Michiko che vi presenta lo shop di oggi di martedì martedì vediamo un attimo subito nel dettaglio ecco qua lo shop di fornite ragazzi cominciamo con la skin eco del set doppio eco season 2 capitolo 2 1200 vbac nei due stili stile predefinito e inverso abbinata al dorso decorativo vero riflesso ragazzi 1200 vbac questa skin e passiamo al loro strumento di raccolta l'ame dell'inversione sempre nei due stili oscuro e luce 500 vbac ragazzi il deltaplano eco jet 800 vbac nei due stili oscuro e luce 800 vbac e passiamo invece alla copertura echi 300 vbac e ora si passa un'altra skin molto carina leader squadra panda ragazzi 2000 vbac guardatela del set season 5 abbinata al dorso decorativo bambù ragazzi 2000 vbac ecco la skin wukong sempre 2000 vbac guardatela molto bella abbinata al dorso decorativo bandiere reale ecco il deltaplano dragone reale 2000 vbac e lo strumento di raccolta un jibang 1200 vbac sentite il rumore ed ora si passa alle emote di airplane season 2 capitolo 3 300 vbac ed ecco una serie di emote del basket della skin maschile tiro in sospensione 1200 vbac della season 4 del set metacampo e tripla minaccia alla skin femminile sempre 1200 vbac molto carina questa e ora passiamo allo strumento di raccolta schiacciata sentite il rumore volo libero il deltaplano 1200 vbac e le emote palleggiante 500 vbac molto carina queste moto passiamo alla skin molto molto bella secondo me 0 2000 vbac abbinata al dorso decorativo buco nero guardatela molto molto bella questa skin e punto 0 la copertura del 500 vbac ed ora si passa a hans diamante ragazzi 1200 vbac del set fino alla luna season 6 capitolo 2 abbinata al dorso decorativo incasse 1200 vbac questo skin ed ecco ombra ammantata 1500 vbac season 7 abbinata al dorso decorativo ali domba ed ecco una serie di emote rinnegato 500 vbac vbac della season 3 capitolo 2 rimbalzo incrociato 500 vbac della season 7 ottimo lavoro della season 5 200 vbac ed ora si passa uno strumento di raccolta avo 800 vbac del set norreno season 5 molto bello questo piccone ed ecco il bundle luna guardatelo due skin femminile ciani e poi la traders quella maschina i loro dorso decorativi borsello di ciani e frame kit e la schermata di caricamento verme delle sabbie il tutto ha 2000 vbac invece che fare 1000 vbac per questi 5 getti ovviamente le skin possono essere venute separatamente ma costa di ognuno di 1500 vbac a parte il bundle attrezzatura ad una 1300 vbac perché io proseguo già le motte camminate delle sabbie cosciente il deltaplano all'unicottero lame gemelle dello strumento di raccolta e l'altro strumento di raccolta armi da creatore 1300 vbac al mare ovviamente tutto questo è venuto separatamente ma il costo ovviamente si alza rimane il bundle i due vbac balenciaga guardate di maniera veloce cavalieri valenciaga 1800 e valenciaga scatenata l'attrezzatura di valenciaga look valenciaga guardate strumenti di raccolta deltaplano le varie coperture e le mod de look che io ho già tutte le skin vendute separatamente così come le mod de coperture deltaplano degli strumenti di raccolta con i loro costi a me la più bella è carlino e infine i vari pacchetti futuro tecnologico 1799 mechapop 1599 leggende lava a 1599 leggende la mente di fornet con mille vbac a 1999 e leggende Steve a 1599 e adesso si è aggiunto il pacchetto rogalius guardatelo season 3 season 2 capitolo 3 quindi di questa season ecco la skin minijohn il doccio decorativo il cilindro alfa lo strumento di raccolta geom tattici e 600 vbac a 3 euro 99 questo ne vale appena non può essere regalato questo mi sa lo shop perchè a 600 vbac compresi molto carino e vi ricordo anche il mio codice creatore per supportare il canale gratuitamente quindi non vi costa niente alle vostre sciopatte da rimetterlo in 14 giorni ed è micicrotuto attaccato m i k y cr o m i k y cr o a tutto attaccato maiuscolo m i k y cr o ricordo anche super chat e super sticker da 0,99 centesimi di euro in su per supportare il canale e per questo ringrazio già chi ha donato ragazzi adesso vi auguro una buona giornata da corrido remato m i k y cr o mi raccomando lasciate un like al video e stasera sono in live su fornet ciao ragazzi buona giornata a tutti ciao